Ciao ragazzi, benvenuti su Guide su Misura, oggi parleremo di guadagno e parleremo appunto di un sito nato ormai nel lontano 2009, un sito assolutamente pagante, un sito attivo presente nella maggior parte degli argomenti, dei forum, dei principali siti appunto di guadagno online ha un'ottima reputazione, si chiama appunto Inocurrent, io l'ho testato personalmente e devo dire funziona perfettamente ha degli ottimi guadagni, breve tempo a differenza di molti altri siti che spesso e volentieri spariscono improvvisamente oggi vi andrò a presentare appunto le principali funzioni di questo sito e la possibilità di guadagno che avrete nel tempo compiendo delle azioni giornaliere, andiamo a vedere nel dettaglio come funziona Inocurrent se veniamo qui possiamo appunto leggere tutte le informazioni del sito e in poche parole ci scrive che appunto è nato nel 2009 e fino ad ora ha un'ottima reputazione e possiamo andare benissimo in qualsiasi forum, possiamo benissimo digitare il nome del sito appunto Inocurrent e possiamo valutare con i nostri occhi tutte le recensioni positive e un sito attivo e pagante ha un minimo di prelievo abbastanza basso di 5$ e i pagamenti vengono effettuati tramite Paypal al 100% gratuito cioè non dobbiamo assolutamente investire nessun soldo, nessuno dei nostri risparmi e quindi andremo direttamente a guadagnare gratuitamente e questo è molto importante perché esistono siti simili dove invece bisogna effettuare un bonifico e quindi investire i nostri soldi e rischiare i nostri soldi abbiamo la possibilità di avere una quantità di referrals illimitati cioè le persone che si registreranno sotto di noi, in poche parole e abbiamo un guadagno su di loro del 120% che è assolutamente ottimo come percentuale io penso che questo sia uno dei siti se non il sito migliore e il più serio e uno dei più anziani parliamo appunto del 2009 che tuttora è assolutamente pagante possiamo andare in qualsiasi forum e chiedere oppure leggere semplicemente le recensioni abbiamo la possibilità di effettuare diverse azioni durante la giornata che poi andremo a vedere dobbiamo semplicemente andare a registrarci con tre semplici e veloci passi chi appunto non l'avesse ancora fatto dovrà inserire l'username, una password, la conferma della password la vostra email, confirmare l'email e poi inviare successivamente andrete nella casella postale quindi nella vostra email che avete associato appunto durante la registrazione e dovrete confermare appunto la registrazione come si conferma la registrazione? cliccherete sul link che troverete appunto sulla posta, adesso vi faccio vedere andrete a cliccare in questo link e verrete rinviati nella pagina iniziale il link di attivazione che è questo qui e copieremo questo codice di attivazione appunto nello spazio dove ci verrà richiesto inseriremo successivamente sopra il nostro username e poi il codice e invieremo il tutto e da quel momento in poi saremo registrati e potremo benissimo iniziare a guadagnare questa è la schermata iniziale, qui abbiamo un grafico dove ci fa vedere i totali di crediti io ho appena iniziato, ci sono 500 crediti, li ho fatti in 5 minuti, ve lo garantisco, è molto veloce andiamo in reward ma innanzitutto vi consiglio quando vi registrate di registrare direttamente l'email del vostro conto paypal se non l'avete fatto e vi siete registrati con un'email diversa da quella associata conto paypal potete successivamente aggiungere, venendo qui, le impostazioni oltre che cambiare chiaramente la password e cambiare appunto le vostre impostazioni il nickname è tutto quello che è associato al vostro profilo possiamo aggiungere un'email diversa da quella inserita durante la registrazione qui vedremo l'email aggiunta, in tal caso l'avremo aggiunta appunto per confermare l'email ci arriverà un messaggio sulla nostra casella dovremo riconfermarlo e da quel momento in poi venendo qui potremo selezionare la seconda email dove vogliamo inviare i nostri soldi abbiamo sostanzialmente due traguardi che sono 5 dollari e 10 dollari rispettivamente con 10.000 crediti e 20.000 crediti una volta che raggiungiamo la soglia possiamo chiaramente inviare i nostri soldi fare la richiesta di accredito sul nostro conto paypal una cosa molto importante che dovrete fare appena accumulare un po' di crediti è quello di acquistare i vostri referrals in modo da aumentare i vostri guadagni potrete acquistarne quanti ne volete vi verrà scalato in base alla quantità di referrals che voi deciderete di acquistare vi verranno scalati direttamente dai crediti ricordiamoci che non tutti i referrals sono attivi dureranno per una settimana noi avremo una percentuale del 120% di guadagno sui nostri referrals per una settimana chiaramente non sappiamo esattamente quali sono i guadagni di referrals che il sito ci darà ma vi garantisco che questa è una delle soluzioni più veloci per aumentare i nostri crediti cioè oltre alle nostre azioni giornaliere avremo una percentuale di guadagno delle azioni giornaliere effettuate dai nostri referrals che in questo caso potrebbero essere 6 dipende da quanto noi vogliamo investire un'altra cosa molto importante sempre di referrals è che qui abbiamo il nostro referral link andando a cliccare potremo aggiungerlo nella nostra pagina facebook oppure potremo aggiungerlo nel nostro blog abbiamo addirittura anche il referral banner in formato anche html in questo modo noi guadagneremo il 120% su ognuna di queste persone e ricordiamoci che non c'è un limite di quantità vediamo un attimino quali sono le azioni che possiamo effettuare giornalmente ecco, una delle azioni più semplici è quella di visualizzare appunto un sito web clicchiamo su continua qui appare una barra dobbiamo aspettare i secondi necessari e avremo aggiunto appunto il nostro credito qui ci sono diverse comunque funzioni cliccandoci sopra ecco in questo caso ci danno 5 crediti anche qui la barra dei secondi scorre una volta che noi ci registreremo molte di queste opzioni saranno ancora disattivate ma nel giro di 24 ore si aprirà un mondo di opportunità appunto per aggiungere crediti al nostro conto abbiamo come vedete diverse opportunità alcune si sbloccano nel tempo man mano che noi lavoriamo con loro uno dei modi per guadagnare di più e in fretta sono appunto quelli dei sondaggi vediamo che qua ci sono 490 1000 crediti e così via avremo anche delle opzioni dove dovremo installare delle applicazioni oppure registrarsi in un sito e tanti altri insomma ci sono come vedete molte opportunità è uno dei siti più ricchi è uno dei siti dove si guadagna di più in assoluto questo ve lo posso garantire potrete andare benissimo a leggerlo ovunque è un sistema che funziona e ve lo consiglio vivamente quindi ricapitolando abbiamo la possibilità di guadagnare in tantissimi modi quindi andando a cliccare sui siti guardando i video commentando video su youtube potremo effettuare delle registrazioni in alcuni siti abbiamo addirittura le live abbiamo tante opzioni per guadagnare in poco tempo quindi registratevi in questo sito in occorrent è molto semplice troverete il link in descrizione una cosa molto importante dopo che vi siete registrati e avete iniziato chiaramente a compiere le vostre azioni giornaliere aggiungete il primo possibile dei referals quindi pubblicizzate il sito in modo da guadagnare il 120% su ogni vostro referals mi raccomando è una delle cose più importanti per guadagnare di più e più in fretta bene ragazzi la guida termina qui spero l'abbiate trovato interessante iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella per le notifiche lasciatemi i commenti qui sotto trovate il link in descrizione del sito in occorrent per qualsiasi domanda lasciatemi i commenti qui sotto e ci sentiamo presto alla prossima ciao 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 ciao